Quante volte ha fatto spostare un matrimonio? Ci sono matrimoni che abbiamo spostato, guardi, non so se mi credete, ma anche cinque volte. Quando il matrimonio lo decide il banchetto. Una volta era il papà di lei che dava il consenso, oggi è di fatto il ristoratore. Dobbiamo adeguarci al DPCM, essendo che varia di mese in mese e dobbiamo stare molto sul pezzo, siamo quelli che danno la prima informazione agli sposi che capiamo come si può gestire. Perché si va per tentativi, non possiamo sapere fra due mesi cosa succederà. E là si va avanti a spostare la data. Prima vittime di queste situazioni sono, manco a dirlo, le future mogli. Ovviamente questo influisce nella parte psicologica della persona. Veda lei, se bisogna spostare il matrimonio una, due, tre volte, ovviamente questo va a influire. Perché va ricordato che oltre al ristorante c'è il fotografo, i fiori e attenzione, soprattutto il vestito da sposa che qualcuna, passando le stagioni, ha cambiato ben tre volte. Il vestito ovviamente oggi va bene scollato, domani non va più bene lo scollato perché cambia la temperatura e tutto. Così chiusi e in zona rossa i nostri ristoratori sono diventati anche consolatori. Gli sposi sono un po' abbandonati a loro e hanno le mamme, le zie e le nonne che tendono a fare le pressioni in questo momento particolare della loro vita. E allora noi, avendo conoscenza trasversale, cerchiamo di dargli supporto in tutte le loro difficoltà. E si arriva al paradosso che lo chef consiglia agli sposi intanto una cenetta intima, rigorosamente in casa. Il matrimonio è un'unione, devono creare una famiglia, quindi devono sposarsi. Dopo, eventualmente, l'anno prossimo faranno una festa più grande, faranno con gli amici e si farà festa come si deve far festa.